Amori passati e presenti, Greta Rossetti e i nodi del cuore Lady Gossip ti racconta tutto Siamo qui per immergerci nel vortice emozionale di Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island, e il suo attuale compagno Mirko Brunetti. Da mesi ci fanno sognare con la loro storia, nata proprio tra le tempeste dell'Isola delle Tentazioni. Ma, attenzione! Le onde dell'ultimo gossip rischiano di agitare le acque tranquille del loro amore. Per scoprire cosa si nasconde iscriviti al canale Lady Gossip e attiva la campanella, ecco la situazione. La bellissima Greta è stata recentemente catturata in un ristorante con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale aveva avuto una storia breve ma intensa. Cosa c'è dietro questo incontro? In una Instagram Story, Greta stessa ha deciso di prendere le redini della situazione, svelando la verità. Il motivo? Stanca delle voci e dei pettegolezzi che circolano riguardo alla sua relazione con Mirko, Greta ha dichiarato di mantenere ottimi rapporti con i suoi ex e ha respinto qualsiasi insinuazione negativa. Ma aspettate un attimo, c'è di più. La storia di Greta ed Eugenio si è trasformata in un'amicizia profonda e solida, dopo aver superato la fase romantica, un legame che ha resistito al tempo e alle sfide. E per dimostrarlo, i due hanno scelto di condividere un pranzo, dimostrando che non c'è nulla da nascondere. Tuttavia, questo episodio non ha suscitato nessuna reazione da parte di Mirko Brunetti. Sembrerebbe che la sua fiducia nell'amore con Greta sia incrollabile. Nel frattempo, l'ex di Mirko, per Lavatiero, ha intrapreso la sua strada accanto al nuovo compagno, Igor, ex tentatore. E voi, cari spettatori, cosa pensate di questo intricato intreccio di passato e presente? Il cuore di Greta è un mistero che continua a stupirci. E noi di Lady Gossip saremo qui per scoprire ogni dettaglio e svelare i segreti nascosti di questa affascinante storia d'amore.